Proseguono incessanti le ricerche del bambino di tre anni scomparso venerdì mattina nelle campagne di Metaponto. Il bimbo, figlio di una coppia che vive e lavora in una masteria incontrada marinella a cavallo tra Metaponto e Ginosa Marina, stava giocando in casa quando la madre, attorno alle 10.30, non riuscendo più a trovarlo, ha dato l'allarme chiamando i carabinieri. Immediate sono partite le ricerche che hanno coinvolto i militari dell'arma, gli agenti della polizia, guardie cinofili e i vigili del fuoco, intervenuti con i droni e con i sommozzatori, oltre che con i cani, per controllare il letto del fiume Bradano che si trova vicino alla masseria e alcuni canali di bonifica. Sul posto anche numerosi volontari che stanno battendo le campagne per trovare il piccolo. Grazie a tutti.